ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qui come ogni tanto capita con un'altra puntata delle reaction ai vostri video alle vostre simpatiche collezioni di orologi è tutto ciò che concerne questo simpatico hobby tutto simpatico in questo questo hobby tutto simpatico a volte le persone un po meno come nello scorso video dove c'era il falsario quello con gli orologi falsi è un simpaticone burlone che non sa nemmeno dove sta di casa uno scappato di casa praticamente e d'altro sono anche questi elementi qua che però noi escludiamo dalla community no non vogliamo che facciano parte della nostra cerchia di amicizie chi utilizza gli orologi falsi è bene che vada a fare gli aperitivi al bar di moda e farsi vedere dalla gente che c'è l'orologio costoso che bella che bella passione che è quella ma andate a quel paese detto questo vi ricordo come inviare video cioè in orizzontale sette minuti li caricate su itransfer.com e mi mandate il link via email tutto scritto qua sotto vi ricordo poi che domenica 12 maggio 2024 ci sarà il quinto raduno del canale il quinto watch meeting a viareggio presso la gioielleria pasquali domenici che è parte l'ufficiale del canale nella zona pedonale antistante ci raduneremo per conoscerci per parlare di orologi e per vedere un po come va la faccenda chiaramente poi si può entrare in negozio provare gli orologi spulciare ci saranno presenti dei degli stand di orologeria ci sarà oris ci sarà vulcane poi vediamo un po chi c'è c'è l'amico umberto pelizzari come testimonial poi ci sarà un omaggio per tutti un gadget una simpatica polo quest'anno abbiamo fatto la polo che è più costosa di qualità però è una bella maglietta chi viene la prende e poi ci conosciamo parliamo di orologi dai ci divertiamo allora l'orologio del giorno è questo bellissimo cartier santos orologio di forma quadrangolare con il suo quadrante blu lo scelto blu che è anche poco è anche un po meno visibile leggibile rispetto a quello bianco no però in realtà si legge si legge dai il colpo d'occhio ci sono le sfere bianche nonostante gli indici sono un pochino no riflettenti le sfere bianche si vedono perfettamente quindi si capisce perfettamente allora orologio del quale sono pienamente soddisfatto che fa il suo e che mi dà tanta soddisfazione adesso bando ai discorsi passiamo al video al primo video e barra spaziatrice pronta a subire colpi del destino e l'indice della mano destra pronta a dargli fuoco ciao davide ciao davide anch'io e ti faccio vedere la mia piccolissima raccolta di orologi va bene mettendo che sono abbastanza un neofita diciamo ma io tanto qua vedo che c'è le vick first vick first che sarebbero le bacchette una marca di bacchette è per la batteria e poi la tovaglia con l'orsacchiotto col capuccio lì di natale siamo ancora natale qua non credo spero di no o mi state prendendo un giro va bene andiamo avanti ad interessarmi a questo a questo hobby all'incirca due anni fa poi ho scoperto il tuo canale e grazie anche ai tuoi video e ai tuoi contenuti sto sviluppando diciamo i gusti i gusti stanno cambiando preferisco marche piuttosto che altre e così via c'è strada premetto anche che questa è una raccolta molto molto economica però è quello che mi posso permettere attualmente e quindi tant'è tant'è analogicamente partiamo dal primo che un quazzo un bel quazzo come definisci sempre tu un casio edifice crono questo c'è il volgiu 77 50 scherzo ovviamente scherzo un quazzone diciamo ecco per quello che è il suo valore anche una cassa decente un bracciale che è anche meglio di altri orologi di meson un po più blasonate poi ti farò vedere va bene e dai per quello che è primo acquisto ci va bene ci sta ci sta va dopo di che altro acquisto anzi regalo della mia ragazza per la laurea bellino da un bel 6 5 diciamo dai che ci sta sempre bene 37 mm con della vista ma il bracciale non si può guardare meglio il caso a sto punto ma ma comunque dai è un bel è un bello orologino se questo è fondamentalmente il mio everyday watch andando avanti acquisto vintage in un mercatino bello autolub quindi con il calibro di plastica che ha componenti in plastica no quasi tutto autolubificanti in modo tale da avere una manutenzione diciamo meno meno frequente bello orologio dai se pagato 150 euro si ma autolub non è che a componenti in plastica è quasi tutto in plastica mi sembra che c'è solamente una ruota o un componente che è in metallo è tutto plastica autolubrificante hanno chiamato autolub però se poi è morta lì che è finita lì che non hanno continuato vuol dire che è successo non ha avuto che cioè non funzionava come doveva funzionare detto tra noi no se non c'è bisogno di lubrificazione sono buono anch'io dire non c'è bisogno di lubrificazione questo qua va poi a certo punto muore perché non si può lubrificare si consuma tutto no la metto lì così però è arrivato i giorni nostri funziona però hanno dismesso questa tecnologia che poi tecnologia a volte ci si inventa per il marketing autolubrificante per giustificare il costo basso della mano dopo cioè della mano dei componenti di plastica no però ripeto ai fini collezionistici se io facessi collezione di tissu 11 così lo vorrei lo vorrei perché vorrei un esemplare di ogni cosa che è uscita fuori da ti sono se invece lo prendi come fosse un orologio di pregio perché guardate qua no a livelli devi sapere quello che ha in mano come diceva rocco si freddi questo glielo ho fatto io dopo purtroppo prima non c'era in condizioni veramente ottime il cinturino non è originale però va bene si dopo di che andiamo avanti acquisto impulsivo l'orologio prisma svizzero nulla di che a cinturino inguardabile 20 euro a b e andiamo avanti a vabbè 20 euro poi poi questo è l'orologio di mio nonno perfetta perfetta secondina o le sei numeri romani non ti fanno impazzire no però meno a me devo essere anche qua però è un ricordo di mio nonno che mi ha donato mia zia e quindi questo rimane così perfetto il cinturino che non è originale ma va bene distrutto così deve essere certo perfetto perfetta ultimo acquisto più consapevole questa volta è un acquisto diciamo più dispendioso che ho fatto cos'è cosa sono regalato per natale buon natale il diver entry level per eccellenza il sego skx 007 e in condizioni veramente come nuove come nuovo ecco preso ad un pezzo ragionevole tutte le componenti sono originali come sempre anche il bracciale originale tutto originale bravo ha ancora la garanzia ovviamente l'hai detto anche tu nel tuo video il bracciale e l'asco e tutto quanto ma è il mio primo giubilì quindi per me va benissimo va più che bene mi piace davvero molto io poi ho un polso piccolino quindi ecco però in questo caso seguendo anche il tuo consiglio un 42 mm ci sta molto bene a differenza di questa mezza ciofega 44 mm ecco questo è già un po ma infatti questo è solamente un ricordo affettivo il caso preferisco preferisco questo ok ok questo è quanto ti ringrazio se condividerai il mio video in realtà questo è il secondo te l'ho fatto anche un altro ma non so perché non l'hai caricato ma va bene lo stesso ci mancherebbe un saluto a tutti gli amici del canale bellissimo questo formate dei video degli altri perché sto scoprendo tante 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 primizie tante pelle un saluto ciao ciao love 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 si un video un po diciamo un pochino un pochi orologi no nei quali tra i quali spicca il seco skx che a vederlo così è tutto originale mi viene in mente ora uno degli ultimi che sono passati sul canale ci ho fatto caso dopo aveva il dot sulla ghiera non incassato come questo e quindi lì c'era un problema che però me ne sono accorto dopo una volta che ho riguardo il video pubblicato attenzione guardate questo qua aveva il dot sulla ghiera incassato e quello deve essere così deve essere se lo vedete sporgente c'è qualcosa che non va una ghiera aftermarket o è l'orologio che è completamente fake però tante si ha iniziato dicendo del caso edifest l'elodius ha sperticato di lodi poi dopo alla fine ciofeca l'hai chiamato ti sei contradditto anche da solo praticamente dai il secco il secco skx è il migliore poi anche il secchino 5 che è sempre no economico secchino economico che è carino quel prisma da 20 euro sono quegli acquisti impulsivi che si fanno no fate anch'io cioè poi dopo dici massimo li potete vuoi risparmiare mi serve mi serve lo voglio no a 20 euro lo rivendi perché cioè e va in pari però io perlomeno quando mi sono capitate queste cose acquisti impulsivi poi dopo una volta acquistato ho studiato cos'era quella marca quel marchio quell'orologio fatto un sacco di ricerche io non ci so stare con qualcosa in casa qualsiasi cosa sia e non sapere cos'è come funziona da dove viene perché esiste anche fosse un aspirapolvere no devo sapere le cose e quindi una volta preso l'orologio il con da acquisto impulsivo vado a studiare e poi scopri magari delle cose delle particolarità che dicono che ti sollevano anche un pochino no ma questo qua era il secondo marchio di quella fa di quella fabbrica che a ok bubù cosa che ti magari non hai fatto perché non è non hai dipanato una non hai spiegato cos'è non saremmeno te cos'è vabbè comunque non sopravviveremo dovremmo questa notte prossimo video dai buonasera a tutti ragazzi e buonasera a te davide ciao mi chiamo luigi sono qui per mostrarvi la mia collezione di orologi non ci saranno oggi particolarmente ambiziosi e vabbè comunque pezzi come dire blasonati ma li ho scelti tutti con cognizione di causa e devo dire che tutt'oggi a distanza di qualche anno li indosso molto volentieri molto volentieri bravo con questo casio che ho comprato vista la sua funzione cronometrica l'utilizzo in palestra per tenere appunto i tempi fra una serie e l'altra e che dire io ci vado con lo speed master poi abri il manta crono pagato 15 euro una bancarella devo dire quarzone anni 90 ma ha funzionato molto bene nel senso per quanto riguarda il discorso dell'impermeabilità mi ci sono tuffato più e più volte e a distanza di anni le guarnizioni hanno retto davvero incredibile secondo me peccato potevano anche cedere orologio da tutti i giorni uno praticamente l'unico moderno come dire preso qualche anno fa vostro comandirsi 24 ore impermeabilità 200 metri che dire bracciale generico ah ecco rapporto qualità prezzo con i russi secondo me è strepitoso bracciale l'ho visto che non era suo anni 70 vetta dry con questo quadrante come dire parte dal grigio va dall'azzurrino questa bellissima ancetta a contrasto arancione corona originale anche se non logata e bracciale originale vetta carino bravo bel pezzettino movimento etta 2783 2783 anni 60 seiko seahorse crona non logata ma originale questo quadrante spettacolare secondo me questo nero è normale soleil grigio scuro non saprei bene come definirlo la cassa anche sa una forma che è veramente apprezzo tantissimo ricorda vagamente qualche king seiko gran seiko anche se vabbè come qualità siamo distanti anni luce e vabbè però carino non ci sapremo più di tanto deluxe adoro questo il quadrante nido d'ape nonostante non si direbbe dall'aspetto visto che praticamente ha perso tutta la cromatura il movimento tiene ancora molto bene il tempo e penso un 5 6 secondi al giorno poi seiko 5 sport sport pieni anni 70 bracciale originale seiko ma non è il suo in quanto era preso da un orologio seiko al quarzo mi piace molto e soprattutto con questo bracciale ricorda un po la riedizione che hanno fatto con è certo con la ghiera appunto fuori la ghiera esterna da un bel pezzettino anche questo rosso da ti so viso date anni 70 e corona originale ti so bracciale maia maia di milano mesh particolarità le lancete sono originali ma sono state riverniciate si riesca a vedere come male se abbiano quasi applicato un adesivo sopra devo dire che è stata proprio questa particolarità a farmelo scegliere a farmelo comprare perché aumenta secondo me il contrasto la legibilità in maniera spaventosa ma non è più lui peccato lo rende anche unico poi come pezzo ha capito quindi sgancio rapido davvero un bel pezzettino anche il quadrante da solo regala anche senza la particolarità di ste lancette regala dei riflessi al sole spettacolari verrebbe voglia di mentre cammini di guardare l'orologio e non dove stai andando così magari vai a sbattere il muso da qualche parte sai con lord matic anche qui pieni anni 70 con il suo bracciale originale bravo meglio orologini questo modello in particolare mi è piaciuto molto appunto per le sue forme il fatto che sia super anni 70 questo modello in particolare è stato ribattezzato almeno nei forum qua italiani il tavolino nel senso che la forma della cassa ricorda un po' il design dei tavolini anni 70 così mi è stato ripetuto e ribadito più volte nei vari gruppi telegram o comunque nei forum anche qui quadrante come dire argentato soleil molto chiaro mi garba veramente tanto mi garba orologio dress mi vada compensamati che poi non è propriamente un dress diciamo piuttosto orologio diciamo invece orologio elegante crona non originale ha questo cinturino molto elegante che secondo me lo impatterisce davvero tanto mi hanno fatto anche qualche complimento poiché devo dire al polso secondo me calza veramente bene bravo bravo ti so navigator anche qui pieni anni 70 movimento 24 81 lo stesso che era condiviso all'epoca con altri modelli però dell'omega corona originale ti so cinturino generico un cinturino devo dire non particolarmente pregiato ma come dire come estetica come forma secondo me ci sta questo orologio anche su bracciale che però non lo so preferisco tenerlo da parte perché per evitare di graffiarlo di rovinarlo ho capito probabilmente ce lo monterò per godermelo appieno in effetti sono rari gli orologi vintage che arrivano a giorni nostri con il bracciale di serie e capisco il fatto che vuoi tenerlo anche preservarlo da eventuali danni perché perché per l'appunto poi dopo vanno a morire ci sono sempre meno gli orologi degli anni 60 70 con il suo bel bracciale no mi viene in mente l'altro giorno guardavo sul mio librone longini il silver arrow che è uscito uscì anche con il bracciale è veramente un spettacolo con il bracciale però non ho mai visto un silver arrow con il bracciale non mi è capitato trovarlo orologio secondo me leggendario nel senso che va bene un orologio un po' figlio della sua epoca molto anni 70 come piace a me citizen challenger time adesso non mi ricordo detto anche bullhead vista la forma della sua cassa certo bracciale originale con questa prolunga perché alcune maglie non si trovano più movimento appunto 81 10 che fa dannare gli orologi ma secondo me un gran bel pezzo siamo adesso questo venus anch'esso super anni 70 con valgius 77 34 questo è il bracciale con cui l'ho comprato che spettacolo durante il rainbow qui come dire i contatori dei secondi e dei minuti cronografici dorati regalano anche qua dei gran bei riflessi in ottime condizioni poi l'ho trovata ecco questo qua è il classico esempio di un orologio no diciamo abbastanza eccentrico con questi colori azzurro giallo arancione lancetta rossa che magari lì per lì uno non avrebbe preso in considerazione perché poco sobrio no e in realtà poi dopo vediamo che dopo 30 40 anni spiccano spiccano per originalità sempre i soliti orologi cronografi seriosi no e quando trovi uno di questi qua dici oh che bella novità che è questa e mi ricollego al fatto che a volte al giorno d'oggi escono degli orologi qua ad esempio il mido big date tv quello con il monoscopio no l'edizione limitata che insomma è veramente colpisce l'occhio no particolare estroso però poi dopo fra 10 20 30 40 anni voglio vedere quando lo tiri fuori che dici è bello fa lo stesso effetto di questo perché il tempo a rotonda smussa gli spigoli cassa che non saprei come definire attorno forse cuscino però penso che anche cosa portare molto volentieri volentieri e adesso passiamo come direi logiche almeno dal mio punto di vista personalmente sono quelli più importanti ma vincere non abbiano nulla così particolare forse almeno per molti rado green horse kingsides questo è un rado con movimento s ed era l'orologio quotidiano di mio nonno che si portava così in viaggio sulle navi lavorando in costa crociere crona originale questo dovrebbe essere un 38 la cassa bella grande devo dire un logio elegante abbastanza sottile purtroppo il vetro non è originale l'ho dovuto far sostituire in valore pato però ci sta come dire conserva nonostante questo questo vetro posto ma tutto il suo fasce certo bellissimo complimenti tra un video vediamo un pezzo che sicuramente apprezzerai molto va me lo auguro l'onjin conquest l'onjin conquest voglio precisare che queste immagini qua così in sovrappressione non c'è non ce le metto io ce l'ha messe lui è anche perché è scontornata malissima guarda la testa tagliata questo mi piace l'onjin conquest allora guardiamo un pochino automatico si cassavoro placato dimmelo tu facci vedere bello 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 automatic anni 60 questo insieme a rado era l'orologio come dire della domenica di mio nonno cavolo di tuo nonno era che comprò come regalo di matrimonio per se stesso colonna originale marchiata l'onjin fondello con questi con questo pesce con questa monettina dorata che si è conservata abbastanza bene medaglione e fibbia originale l'onjin ma non di questo modello mi è stato detto essere la fibbia che veniva come dire appunta su veniva applicata sui cinturini dell'admirale ecco diciamo è per forza perché sta qua in acciaio la cassa è placata oro l'avrebbero messa placata oro quindi anche solo per quello si vede non solo da dal logo fibbia coeva ma non originale con il conquest bravo così bravo era un bel pezzettino a mio parere sì sì piacerebbe anche a me ho finito e ti chiedo scusa per la durata fammi sapere cosa ne pensi della collezione se hai qualche consiglio da darmi e niente bella niente bella 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 sei un vintagista praticamente tutti orologi vintage non ho nulla da dirti sulla collezione perché hai spazi tra vari marchi non hai un marchio preferito come a volte può capitare come faccio io per esempio con il login vintage ma spazi di che anno era quel quel conquest lì non me l'hai saputo dire non me l'hai saputo dire mi dispiace un pochino automatico conquest sarà a fine anni 60 belli tutti belli anche citizen bullet che poi dici che del calibro 81 10 difficile da fa tribolare ho chiesto una volta ma il mio orologiaio mi ha detto no che non è così difficile che basta stare attenti non mi ricordo cosa quale particolare durante il montaggio durante la regolazione insomma niente di particolare mi ha sfatato un po il mito del calibro difficile da o trivoloso da revisionare poi dai sei promosso tutti i begli orologi non è nemmeno neppure un orologio contemporaneo oppure non ce li hai fatti vedere voluto farci vedere solo la fetta di collezione corrispondente al vintage non lo so ognuno poi fa quello che vuole capisco comprendo chi colleziona anche solamente orologi vintage perché ogni volta che li vedo mi viene voglia anche a me però poi mi ricordo anche che quasi tutti gli orologi vintage che ho comprato longin compresi e poi dopo dopo un po di tempo un problemino salta fuori e mi ricordo io ne ho presi a un certo punto ne ho presi quattro di quei longin li li ho portati dall'orologiaio di qui sopra il tuo sistema di tutti quattro erano cavolate in uno non scattava la data in uno magari la frizione era lenta tutte tutte piccole cose che però quando quando ti capitano e ti demoralizzano prendi l'orologio al mercatino tu bello contento poi dopo vedi che si ferma che magari la carica è dura che non scatta la data ti piglia lo sconforto perché insomma allora lo vuoi far sistemare è per forza perché se no cosa li prendo a fare gli orologi le voglio che funzioni non che siano precisi no anche se scarta un minuto due minuti non mi interessa però che funzioni beh sei promosso bravo bravo prossimo video ciao davide ciao riccardo riccardo di treviso che roba è questo ti seguo assiduamente da un paio d'anni solo e ora ho deciso di inviarti questo piccolo video dove ti mostro la mia raccolta di orologi il tutto è nato da questo piccolo piccolo seiko 5 è stato il mio primo orologio automatico quello che ha fatto scattare la scintilla trovo che sia ancora ad oggi un buon orologio si è carino si è pagato poco di 70 euro 70 euro e con delle rifiniture decenti al polso risulta ancora molto elegante e simpatico un orologio simpatico da tutti i giorni potrebbe essere un'ottima scelta vedere in movimento e capire come funziona un orologio automatico ha fatto scattare in me la scintilla e da qui si può dire che è nato tutto e allora vedi che sei con cinque lì bistrattato no il calibro a vista che non si deve vedere perché qualcosa serve no a far a far nascere la passione alle persone ad avvicinarle a questo mondo ha avuto ha fatto il suo scopo 70 euro 70 euro costavano ma un paio d'anni fa un paio d'anni fa 60 70 80 90 quando sopparevano 100 costa troppo adesso il secondo acquisto che voluto fare dopo il seiko seiko è stato un diver ho voluto acquistare il citizen pro master sono andato diciamo a colpo sicuro certo colorazione pepsi bel cinturino probabilmente col senno di poi avrei acquistato il full lume che probabilmente trovo più iconico stufa però anche questo insomma d'estate fa la sua figura ovviamente ho cambiato il cinturino perché quello in dotazione in cauciu è veramente inutilizzabile a mio parere è silicone soprattutto su un polso piccolo come il mio e così trovo sia un ottimo abbinamento sportivo sta bene ottimo per l'estate ottimo per tutte le stagioni poi ti faccio vedere questo orologio che ho trovato a casa dei miei nonni cos'è un flipper non so di preciso non ho molte informazioni l'unica cosa che posso dirti che sul fondello vi ha disegnato un aereo militare però boh non lo so luismade carica manuale non lo conosco simpatico simpatico eh carino non lo uso praticamente mai poi passiamo al citizen zuiosa zuiosa blu ho preso il quadrante blu ero affascinato da questo da queste forme genziane gentiane e trovo che come qualità prezzo questo sia un orologio assolutamente ma sì fantastico ma ci sta il quadrante ha dei riflessi davvero affascinanti il bracciale io non sono un esperto ma trovo che sia ben fatto fa il suo l'unico difetto secondo me che ha questo orologio almeno parlo per me che ho un polso relativamente piccolo e la dimensione che forse poteva essere anche un po' più piccolo e il fondello ha visto la vista che trovo che non sia necessario adesso sei diventato bello orologio lo uso spesso elegante raffinato un bel acquisto adesso sei diventato l'espertone prima il fondello a vista su secco 5 ti andava bene ti ha avvicinato al mondo adesso incomincia a fare un pochino lo snob eh il fondello a vista non era necessario un po' quelle quelle frasi fatte che insomma diciamo tutti nell'ultimi due mesi invece sono riuscito a risparmiare un pochettino e mi sono tolto insomma qualche soddisfazione piccola soddisfazione beh cos'è la prima delle due soddisfazioni che mi sono tolto è questo glycine combat sub tanta roba complimenti 39 bellissimo questa nuova misura da 38 da 39 mm scusami non ho acquistato la versione con gli indici invecchiati ma ho preferito quella classica si è fatto bene sono sicuro che è un un colore che non mi stufferà negli anni un buon bracciale un buon bracciale e delle finiture che mi hanno sorpreso ovviamente al di là dell'estetica dell'orologio che adoro si classica e finalmente ieri dopo tanto tempo ho deciso di premere il grilletto e ho acquistato l'orologio che ho sempre voluto diciamo da quando ho iniziato a collezionare a raccogliere questi questi orologi ed è l'Hamilton Kaki Field bravo fatto benissimo da 38 mm ottima scelta un orologio secondo me spaziale quando ho aperto la confezione e si è mostrato a me posso dire di aver avuto quasi la pelle d'occa perché era un orologio che ho sempre visto in foto in video certo e che sinceramente mai avrei pensato di riuscire ad acquistare però insomma con un po' di sforzo economico facendo qualche sacrificio finalmente bravo è mio il bracciale secondo me è davvero stupendo mi ha sorpreso veramente tantissimo e poi comunque tutti questi riflessi la bellezza del quadrante trovo che sia super azzeccato bene questa era la mia piccola raccolta di orologi spero di non averti fatto perdere troppo tempo e ci vediamo magari tra qualche anno quando amplierò ulteriormente questa piccola collezione ciao a presto a presto sei orologi è anche trovato lo spazio per un vinte flipper flipper non so cosa sia magari è anche dimenticabile evitabile non lo so cosa serve a niente non ti serve gli altri cinque sono tutti i orologini come si deve il promaster lo zuiosa il secco cinque carinino piccolino e poi il tuo bel glissi comba sub e l'evento cacchi fil diciamo che hai una bella collezioncina hai speso i soldini con criterio quello te lo posso assicurare non hai preso delle cioffecche degli orologi che anche volendo guardarlo dal lato della rivendita quando ti stufi non della rivendita di guadagnarci dei soldi quando ti stufi quando vuoi cambiare quando vuoi hai un gruzzoletto da parte per metterci qualcosa sopra per salire di livello uno di questi cinque orologi qua sono tutti vendibilissimi tutti vendibilissimi addirittura il 6Q5 ci va anche a guadagnare mi guarda cosa ti dico perché se 70 euro lo metti in 75 hai già guadagnato 5 euro che però l'hai perso per via dell'inflazione in questi anni comunque diciamo che come investimento ci può stare bravo bravo sei promosso mi ha fatto piacere vedere il tuo video bravo ciao Davide mi chiamo Federico complimenti per il canale ciao volevo mostrarti rapidamente la mia piccola collezione di orologi come tutti inizio con questo Orient Ray 2 questo è stato uno dei miei primi orologi automatici e su questo diciamo non mi dilungo più di tanto perché l'abbiamo visto tutti fino alla nausea quindi passiamo al prossimo questo è un Rotary Legacy da 36 mm un orologio secondo me molto interessante perché prima di tutto questo orologio ha il movimento Sellite sv200 quindi ha un signor movimento certo ha pur un bracciale molto ben fatto perché come vedi finali pieni clasp in acciaio pieno le maglie sono piene non fa rumore è un bel bracciale le dimensioni sono interessanti le proporzioni insomma la vestibilità è molto interessante e tra l'altro ha questo bellissimo quadrante champagne champagne quindi questo secondo me è un bel pezzo un pezzo interessante peccato acciaio oro placato che insomma poi ti faccio vedere questo Hamilton Jazzmaster questo mi è stato regalato dai miei genitori per i 20 anni gli ho cambiato il cinturino perché questo qui esce di serie con il cinturino in allegatore però siccome ha delle dimensioni un po' abbondanti secondo me questo in cuoio che è un pochino più sportivo si addice meglio diciamo alle fattezze di questo orologio c'è anche io il Viumatiker poi ti faccio vedere uno dei miei orologi più importanti uno dei miei preferiti Seiko Marine Master 200 o Baby Marine Master che dir si voglia la referenza vecchia questa è quella del 2018 è un orologio per me molto importante perché me lo sono regalato in occasione del superamento di un importante concorso ah bravo e quando superai questo concorso mi vogli regalare un orologio e scelsi genuinamente questo modello perché mi piaceva moltissimo è tuttora mi piace moltissimo ha un bellissimo bracciale con delle maglie vedi con questo diciamo questa tridimensionalità particolare questi biselli lucidi tra l'una e l'altra insomma un orologio secondo me magnifico certo lo voglio riprendere con questa configurazione nera che è la più classica di tutte diciamo la colorazione più classica che c'è di modo che non mi potesse mai stancare anche te difatti lo uso moltissimo con grande piacere è stupendo questo orologio soddisfazione poi ti faccio vedere questo il Glycine Combat Sub questo è un orologio interessante secondo me a me è sempre piaciuto il marchio Glycine perché ho sempre ritenuto che facciano orologi egregi a prezzi diciamo concorrenziali confermo quando ho visto che era uscita diciamo questa referenza da 39 mm del Combat Sub l'ho preso quasi immediatamente questo tra l'altro è stato anche l'unico orologio a cui ho fatto una modifica ho apportato una modifica infatti come vedi ho fatto satinare il bracciale il bracciale esce e infatti stavo guardando anch'io questo ho fatto qua l'amico prima con il suo Glycine Combat Sub da 39 che è uguale a questo aveva la maglia del bracciale lucida fateci caso che spiccava un pochino qua tutta satinata così è veramente un bel passo avanti bravo è fatto un bel lavoro sembra che è fatto bene tra l'altro notavo il datario in questa configurazione qua questa qua è configurazione con quadrante blu e ghiera blu che il datario è a sfondo blu con scritta rossa che si legge un pochino poco ma si mimetizza bene nel senso va bene si mimetizza bene quello che vogliamo però a volte si perde in leggibilità e allora se la funzionalità viene a mancare insomma però bellissimo orologio diciamo di serie con la maglia centrale lucida io l'ho fatta satinare perché così mi piace di più insomma così mi diceva la testa è bellissimo secondo me promosso poi ti faccio vedere qualche pezzo vintage questo è un secco 61-39 un orologio interessantissimo dal punto di vista storico perché come sappiamo è stato il primo crono automatico ad essere commercializzato nella storia prima ancora lo zenith questo è interamente coevo originale il movimento in perfetto stato funziona perfettamente è forse un pochino come vedi un pochino conciato bracciale i finali sono un pochino laschi però insomma è un orologio del 77 e come movimento è perfetto piace moltissimo questo quadrante grigio che tende a virare verso il marrone in alcune angolazioni molto interessante certo che interessante bello poi ti faccio vedere qualche altro pezzo vintage eh sì un vintage però è come se non lo fosse perché è un orologio che ha acquistato NOS nuovo fondo di magazzino è un Longin XL24 un orologio degli anni 80 al quarzo però il fatto che sia al quarzo non mi disturba per niente perché questo è un buon movimento al quarzo è un movimento ETA svizzero con 7 rubini ruotismi in metallo quindi è un movimento revisionabile è fatto per durare e questo è un orologio secondo me spettacolare mi piace questo qua questo qua ecco è uno di quegli esemplari di orologio al quarzo che mi ci vorrebbe nella collezione di Longin mi manca un orologio della decada della decada degli anni 80 mi manca un orologio con un calibro al quarzo e questo qua potrebbe fare il caso mio sapere anche quanto l'hai pagato non lo dice mai nessuno quanto ho pagato però poi dopo però mi viene la voglia di tirar fuori i soldi per comprare un orologio al quarzo devo perché se sto facendo una collezione di Longin devo fare tutto sforzo chissà quanto costa delle bellissime linee anni 80 proprio tra l'altro anche un bellissimo braccialetto braccialetto con le maglie piene un orologio secondo me interessantissimo che per me è speciale perché questo qui è proprio lo stesso identico modello dell'orologio di mio nonno che ora ti faccio vedere eccolo qua questo è il suo ce ne due dammi ne uno purtroppo questo orologio è distrutto si è allagato anni fa e adesso in questo stato il movimento è praticamente da buttare e il quadrante diciamo andrebbe rifatto perché queste come vedi questo non è un quadrante a poire ma sono macchie di muffa fondamentalmente caratteristiche proprio degli orologi quando si allagano e purtroppo per far sistemare il movimento e il quadrante di questo orologio dovrei spendere più di quanto ho speso per prendere questo in condizioni in os quanto e quindi per adesso ho preso questo che tra l'altro mi piace anche di più perché ha questo quadrante nero spettacolare poi prima o poi insomma questo ho in mente comunque di farlo mettere a posto perché ci sono legato affettivamente ovviamente essendo l'orologio di mio nonno mio nonno materno ecco quando lo fai mettere a posto poi quello di nuovo quello di nero spedisci me la me che te lo faccio vedere qua dal vivo così naturalmente gratis grazie grazie poi ti faccio vedere quest'altro infine è sempre un orologio al quarzo questo invece è stato l'orologio di mio nonno paterno quindi anche a questo ci sono legato affettivamente è un 6 col quarzo molto semplice sottilissimo da 35 mm elegantissimo a cui ho messo questo bel cinturino bordeaux secondo me sta molto bene il bordeaux con l'oro questo va bene non è in vero oro è placato comunque anche questo secondo me è molto caruccio niente ti ringrazio questa è la mia piccola collezione ti ringrazio per aver fatto vedere diciamo questo video e ti saluto un saluto ciao 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 oggi è la giornata delle piccole collezioni semplici anche questo amico qua ha un glissing con un bazzub ha un bel secone e una parte di orologi vintage fa piacere quando vedi le persone che poi tendono a preservare gli orologi l'ascito come tradizione l'orologio del nonno l'orologio di famiglia fa piacere beh belli anche anche sono dei quarzi hanno il loro il loro valore storico anche per me lo hanno ripeto lo vorrei anche io un logino al quarzo da mettere in collezione specie con quel calibro lì che non so cosa sia chiedetemi cos'è perché non sono ferrato sui calibri al quarzo però mi dici che ha 7 7 rubini vuol dire che ci sono le ruote ci sono dei meccanismi anche per far muovere il tutto vai si è promosso complimenti e continua così saluti e baci ciao Davide ciao questo è il secondo video che ti mando per gli aggiornamenti della mia raccolta di orologi bravo quindi banda le ciance vai contributo con l'orologio del giorno cos'è che è questo bellissimo mega dynamic top mi piace 37 mm questo mi piace tanto questo acciaio condizioni superbe complimenti bello molto bello molto bello poi andiamo col secondo dai faccio vedere questo cronografo della venus 38 mm tanta roba lunetta girevole bidirezionale movimento manuale da indice altrizio è veramente carino tenuto bene tenuto bene 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 un po' ingialliti come si vede reverse panda funziona si bel pezzettino dai poi ultimamente ho fatto un po' di acquisti pazzi ancora li devo pure spacchettare procedo a farti rivedere iniziamo con questo l'unicino flagship che bello 35 mm questo è bello che è la penultima serie l'ultima in quanto forse 38 e mezzo una serie di orologi questa qua che è sempre stata un po' snobbata un po' messa in secondo piano ma sono veramente guardiamo che bellino com'è elegante questo orologio qua sottile perché c'è il calibro derivato dall'eta 28 92 tutti i crismi dell'orologio veramente quasi un orologio gioiello con questo bracciale lucido così io l'ho sempre tenuto in considerazione mi ricordo che c'era il flagship l'elegant e record erano quelle tre collezioni che io guardavo sempre spesso per decidere tra uno e l'altro poi mi sembra che presi il tudor 1926 e mi sembrava un po' grande in quanto puoi capire che mi piacciono gli orologi di diametro un po' ristretti contenuto questo appena finisco il video inizio a spacchettarlo bravo che soddisfazione spellicorarlo poi venendo sempre in casa l'ongine cos'è questo idroconquest 39 mm ah ma ancora automatico sempre il penultimo modello pellicolato in quanto questi numeroni me lo fanno preferire a quello nuovo pellicolato anche questo risattono non tanto i numeroni ma gli indici i doppi indici se ma pronto 39 mm come detto anche esso da spacchettare ma compri di orologi così come come fossero caramelle il penultimo ti faccio vedere questo lorenz una bella chicca questa è una cassa da 38 mm che bello questo veramente corone incastrata alla cassa come puoi vedere un lorenz bello un os questo non penso non non penso di metterlo guarda lì la cassa cromata cassa cromata più che altro la colonna incastrata dentro la cassa mamma mia che bello è tenuto benissimo con il citturino del tempo siamo sicuri che è cromata la cassa sembra lucida bello il nos così una scatoletta che ormai mezza andata anche la scatoletta va tenuta tanta roba poi complimenti l'ultimo ma non ultimo top una mega cmaster tiber la penultima referenza da 41 mm la cassa un po' più sfinata del tuo la penultima l'ho preferito a quello nuovo in quanto al polso mi sembra un po' più armonioso montercalibro 2005 2500 coaxial anch'esso nuovo come puoi vedere odio un po' di lavoro da fare un po' di orologi da mettere a misura da spacchettare anche questo qua è nuovo preso e niente davide mi fermo non ti faccio perdere altro tempo dimmi cosa ne pensi dei miei orologi grazie mille continuo così sei un grande rock 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 and love ti sei preso tutti questi orologi che hai mostrato oggi e te li sei presi ora così si rischia un pochino di esagerare così perché cioè non fai nemmeno un tempo io non faccio il tempo anche se me ne prendo uno al mese più o meno come media diciamo fatico a godermeli cioè a riuscire a indossarlo per un certo periodo come per esempio questo qua lo indosso il più spesso possibile però poi devo lasciare spazio anche agli altri che ho che ho preso anche lo speedmaster eccetera eccetera prenderne 4 o 5 così in un botto devo ancora spacchettarli spellicolarli metterli a misura è veramente ingordigia sembra quasi ingordigia orologera cioè una sorta di di malattia bulimia va bene comunque hai fatto delle scelte degli orologi che li vorrei anche io sia i due Longines che l'Omega Lee Seamaster che il modello col calibro 2500 sì è la versione precedente forse ancora la versione due versioni precedenti non mi ricordo bene tra questo e il mio ce n'è uno e mezzo sì sì c'è questo poi c'è quello con il quadriante a onde a ondine con la data a ore 3 e poi c'è il mio che è a ondine ma con la data a ore 6 con il quadriante in zirconio due modelli precedenti comunque si è promosso tutti i orologi anche il Lorenz cavoli veramente NOS veramente fondo di magazzino immacolato ecco probabilmente se anch'io trovassi una cosa del genere ma non su internet che vai a cercare NOS che mi capita che sono dal vivo entrano in un negozietto e uno mi dice guarda c'è questo qua che è impacchettato là così un Lorenz o quello che ti pare a te un Vetta degli anni 60 che guarda lì è ancora incelofanato con il suo cartellino quanto vuoi probabilmente lo prenderei anch'io anche se non mi interessa se mi ci trovassi di persona andargli a cercare su internet non mi interessa perché faccio la collezione dei longjin e mi vanno bene quelli capito però quando ti trovi davanti a un'offerta leggera anche una bancarella è difficile complimenti non posso farti altro perché dirti altro perché a parte l'esposizione che sembravi un pochino impedito però per il resto gli orologi tanta roba complimenti complimenti ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto siamo arrivati alla fine spero vi siano piaciuti i video gli orologi oggi nessun nessun colpo di scena c'è nessun orologione super costoso questo omeghino qua i longjin va bene il dynamic il primo c'aveva il dynamic tanta roba anche il dynamic il suo tempo tanta roba anche quello bravo questi erano un pochino quelli più costosi più di pregio poi tutti i video orologi normali orologi adatti a tutte le tasche veramente quindi io vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao